ma che 3 euro? ma che 3 euro? 2 euro 2 4 euro e 50 io ti ho comprato anche questa che non l'avrei neanche pagata l'hai andato a tagliare in un giardino perchè non 3 non 3 ne è abusato perchè mi ha rubato il resto io non volevo questo non è cosa ne è no 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 io voglio la palla invece di questa roba ma sai c'è l'altro? 2 euro e 50 sono 55 non abbiamo più di soldi per mangiare tutti è appunto che hai 20 soldi io non potrei mangiare ma questo cos'è? ma non volevo dire ma è rosso allora hai messito l'anello a livello non ho messo l'anello non ho messo l'anello e qual'è? ecco la palla è la palla è lì la palla ma io ho la palla 2 euro e 50 vedi la palla? perché si è costruzato 5 euro, 4 euro e 50 non ce l'abbiamo, e lui ci sa che abbiamo non ce l'abbiamo, ce l'abbiamo ciao, buonasera ciao Perù ciao Perù vi toglie, Tommy, vi toglie Tommy Vittoria Tommy, questo è YouTube Tommy Vittoria, YouTube vi toglie, non c'è la macchina